Questa è una lezione pensata apposta per i runner. Ero un runner agonista alle superiori al college e non vedo l'ora di mostrarti qualcuno degli esercizi di stretching che usavo per migliorare la mobilità e la falcata, ma anche per il recupero. Sono felice di condividerli con te. Iniziamo sedendoci a terra. Per questa prima posizione, la farfalla, uniamo tra loro le piante dei piedi. Porta i talloni verso l'inguine e lascia che le ginocchia si aprano al libro. Afferra la parte esterna dei piedi e abbassa delicatamente la testa curvando la schiena.